Palla alla Roma, bravo Amato, grande giocata, pallone poi per Caprari, va l'uno contro uno, Caprari doppio passo, va via sul destro, può crossare, metti in mezzo, secondo palo e poi arriva il gol di Piscitella, 1-0 e la Roma in vantaggio con il gol di Piscitella. Dunque, gol meritatissimo al 14esimo, c'era andato vicino prima Piscitella, poi fa strike il Lecce con Rosato che per calciare il pallone è di frustrazione.